Farraginosi MTIers, è infine arrivato il giorno di parlare di Pluto TV, come funziona e cosa si può vedere senza pagare. Legatevi per bene, che si parte! Per prima cosa è giusto spiegare cosa sia Pluto TV, un servizio di streaming del gruppo Paramount che opera in gran parte del territorio europeo, praticamente ha un sistema complementare a Paramount Plus che è invece un servizio di streaming on demand classico in stile Netflix, Prime Video o Disney Plus. Paramount Plus arriverà da noi sia nel pacchetto Sky che probabilmente anche acquistabile a parte, ma se ne parlerà tra diversi mesi. Tornando a Pluto TV però si capisce come sia diverso e a dire il vero è proprio diverso nella concezione base rispetto a tutto il resto che si è mai visto nello streaming. Non parlo certo della pubblicità che oltre ad essere all'inizio e alla fine di film o serie l'intervalla pure ogni tanto durante la visione circa ogni 10-15 minuti. Ci siamo già abituati su altri servizi gratuiti o parzialmente tali ma mi riferisco al sistema di fruizione che accosta questa Pluto TV più ad una TV anni 90 che è un vero servizio di streaming. Sento che vi state già preoccupando. Andiamo quindi a scoprire esattamente come funziona. Il funzionamento del sistema è semplice. Si entra nel sito Pluto.tv o si apre l'app dal proprio smartphone o smart tv e senza bisogno di registrazione utente di alcun tipo ci si ritrova immediatamente nella visione di uno dei canali che la piattaforma rende disponibile. I canali sono diversi e tutti tematizzati. Più avanti però ne parlo meglio. Ma la cosa interessante se vogliamo dire così è la presenza di un palinsesto che si apre in basso sotto la miniatura di visione iniziale. Questo panissesto ricorda in tutto e per tutto quello di una tv tradizionale con tanto di numerini, vedersi anche solo Sky per non parlare di Rai o Mediaset. Praticamente film o serie iniziano a rari prefissati e non si può riavvolgere la visione. C'è da dire che molte cose sono anche nell'on demand ma uscite di punta non saranno proprio disponibili on demand e se si perde la o le visioni programmate non c'è possibilità di recupero. I canali disponibili come dicevo sono tutti tematizzati da quello dei film sci-fi a quello dei film d'azione passando per i film italiani, romantici e commedia. Lo stesso vale per le serie che hanno però la particolarità di avere canali dedicati che alla fine di un episodio mandano in successivo in un loop che si ripete per qualche giorno. Tanto per fare un esempio c'è il canale di Andromeda la serie ideata da Jane Roddenberry con interprete Kevin Sobro. Poi il canale dedicato all'Average, film leggerino sulle truffe e rapine o anche serie di culto trash come il Banco dei Pugni. Insomma ci si potrebbe perdere le ore solo a fare lo zapping di continuo. Un caso a parte molto discusso è la prodo della quarta stagione di Star Trek Discovery direttamente su Pluto TV dopo il mancato accordo con Netflix. La scelta è di non rendere questa serie di punta disponibile on demand e di metterla in programmazione solo per tre giorni, venerdì, sabato e domenica all'orario prefissato delle 21. Questa scelta è molto limitante per un fan, ma non temete, potete sempre pensare che non ci sia nulla di interessante da vedere. Se mi sentite acido è perché lo sono. Personalmente da fan di Star Trek la considero la cosa più spocchiosa mai fatta per il franchise e sono contento che Netflix l'abbia scaricata perché a mio avviso la Paramount voleva troppo rispetto alla sostanza. Nulla da dire sulla qualità produttiva se non lo chiamavano Star Trek era di sicuro accettabile come serie. Quello che però mi preme è vedere come ci sia l'obbligo di presenza ad un determinato giorno e ora altrimenti se perdi pure le repliche ti attacchi. Che non si lamentino poi della pirateria ma in effetti per Discovery. Ora per piacere non focalizziamoci su Discovery anzi è meglio proprio non pensarci e facciamo una carrellata su alcuni film o serie meritevoli oltre a quelli già citati. Parlando di film abbiamo quindi tutta la serie degli Sharknado Lava Lantula, Alba Nera, Martian Land, Super Mario Bros diversi di Steven Seagal ma non i più famosi poi ancora L'Uomo del Treno, Shaolin Basket, L'Albero della Vita La Ragazza con l'Orecchino di Perla e Notte Brava a Las Vegas giusto per citare i più meritevoli pensate gli altri. Passando alle serie disponibili abbiamo poco o nulla oltre a quelle già citate meritevoli sono Ascension, Hawkeward e Broad Church con David Tennant. Se però ancora non vi basta potete buttarvi sui programmi TV definibili come intrattenimento ad alto contenuto trash con la versione thailandese del Takeshi Castle morti e stramorti e riccanza. Per piacere non fatemi dire altro che è meglio. Adesso è arrivato il momento di qualche conclusione personale su questa Pluto TV. Prima quindi di sbilanciarvi vi ricordo di piazzare un bel mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, i vostri commenti sono la parte più bella del di fare il video. Quindi non dimenticatevi e fate girare questo video a tutte le vostre conoscenze che vogliono guardare un servizio di streaming a gratis assorbendosi un po' di pubblicità. Per quanto riguarda il mio pensiero è che sia la cosa più assurda che si potesse fare in questo momento. Una TV a palinsesto fisso quando tutti vogliono poter scegliere e vedere le cose quando pare a loro, però questo non è un concetto totalmente sbagliato, infatti una fascia di pubblico come bambini a cui non è certo dedicata questa piattaforma o persone più adulte, direi sopra i 50 anni, potrebbero trovarla molto comoda perché più abituate a fruire della TV senza realmente prestarle troppa attenzione o senza perdere troppo tempo nell'informarsi e nello scegliere cosa guardare. Dal mio punto di vista, vedendo anche solo i miei genitori, se Netflix o gli altri facessero uno o due canali così, un pubblico più maturo potrebbe trovarne giovamento. Insomma, una TV per me nata vecchia che però non ha pretese, è gratis e nemmeno eccessivi costi di gestione. È semplice da usare proprio perché richiama una TV in cui la scelta non è l'opzione principale. Direi che questo è tutto e ci si vede al prossimo video carissimi MTIers. Ciao!